Andiamo a vedere il lato positivo, che se dovessimo passare questo quarto di finale avremmo grande possibilità di arrivare in finale. Il Barcellona tanto si poteva, si doveva o perlomeno avevamo possibilità di affrontarlo nell'eventualità lo trovassimo in semifinale e quindi cambia poco. Ci saranno grosse difficoltà ma nello stesso tempo sappiamo che quelle due partite hanno fatto crescere molto l'autostima, la squadra è cresciuta molto e quindi bisogna avere la consapevolezza che abbiamo possibilità di passare il turno. Il momento utopico è comunque la stagione. Ora non serve pensare al Barcellona perché abbiamo Parma domani, abbiamo martedì il ritorno di Coppa Italia, abbiamo sabato la Roma e credo che sia una settimana molto importante e poi dopo ci prepareremo, abbiamo due o tre giorni per preparare il Barcellona.